I 115 anni di storia. Sono orgoglioso di farne parte, ho passato gli anni più belli della mia carriera e ho ricordi che porto nel cuore del grande affetto della gente. Mi viene ancora in mente spesso questa canzoncina, rasate a testa, ligate a scarpe. Auguro comunque al Treviso di tornare presto tra i professionisti. 115 anni, una vita, una storia e sei di questi li ho vissuti intensamente. Il Treviso sarà sempre nel mio cuore perché è stata la società che mi ha fatto crescere, mi ha fatto maturare e mi ha lanciato nel grande calcio. Mando un abbraccio caloroso a tutti i tifosi che come me hanno il Treviso nel cuore. Oggi il Treviso compie 115 anni, un traguardo prestigioso, onorato di aver vestito questa maglia per 5 anni, 150 partite, vi mando un grande abbraccio e vi faccio un forte in bocca al lupo per il proseguo della stagione. I 115 anni della storia del Treviso, storia che ci ha dato la possibilità di far parte con stagioni memorabili e indimenticabili e quindi volevamo augurare a tutti i tifosi del Treviso tanti auguri di una crescita ancora maggiore rispetto a quella che c'è adesso con la speranza, non si sa mai, magari di rincontrarci. Treviso Calcio, il mio primo grande amore. 115 anni di storia, tanti, tanti auguri. Auguri Calcio Treviso, 115 anni, portati alla grande. Tanti auguri al Treviso, un abbraccio e un saluto a tutta la città. Ciao Fioi! Ho dei ricordi indelebili, o di che sportivi, anche familiari, dove quell'11 maggio del 97 è un ricordo troppo forte per me e per la mia famiglia dove è nato anche mio figlio. C'è stata la modazione di Serebì. Non guardate quella maglia dietro, guardate questa. Guardate che bella, quello che abbiamo detto al campionato. Di nuovo auguri al grande mio Treviso. 115 anni di passioni e di amore incondizionato. Buon compleanno Treviso sui club. Continua a darci le stesse emozioni e le stesse soddisfazioni. Io auguro al Treviso di ripetere quell'impresa. Sicuramente con questa società e con questa squadra possono raggiungere questi risultati perché lo stanno dimostrando. Io spero che i prossimi 115 anni siano ancora pieni di questi successi e sicuramente sarà così. 44 anni di questi anni li ho passati con il Treviso, quindi il mio cuore è metà bianco e metà celeste. Buon compleanno Treviso. Se un capricorno come me, il destino ha voluto unirci nell'anno più bello, quello della promozione in Serie A. Sono orgoglioso di aver fatto parte di questa grande storia. Un abbraccio a tutti i tifosi e sempre forse a Treviso. Aver fatto parte dei 115 anni di storia del Treviso mi rende orgoglioso. Tanti auguri di buon compleanno. Ricordo le tre promozioni di fila, dalla Serie D poi siamo andati in Serie B e ricordo con grande entusiasmo la promozione in Serie A, anche se è venuto a quelli in pescaggio, ma sempre una promozione E. Vi saluto caramente da un Trevisiano che è sempre amante della sua squadra. Società che mi ha permesso di chiudere in maniera brillante la mia carriera portando la squadra insieme ai miei compagni dall'Inter regionale alla Serie B. Una cavalcata che credo che ad oggi ancora nessuno ha mai fatto in Italia. Volevo unirmi anch'io all'anniversario per il 115esimo compleanno del Treviso FBC 1993 e vi aspetta allo stadio. Sono orgoglioso di essere stato il fautore della tua ricostruzione rinascita nel 2019 portandoti in Serie D dopo ben dieci anni. Auguri per un futuro glorioso con nuovi successi nei campionati in cui ti meriti di competere. Tanti auguri Treviso Calcio per i tuoi 115 anni di grande storia con la consapevolezza che sicuramente i prossimi e i futuri saranno migliori. I migliori auguri al Treviso Calcio per i suoi 115 anni di storia. In bocca al lupo poi proseguo. È stata una società importante per me perché mi è servita per diventare un calciatore, un uomo migliore. Auguri al grande Treviso, colgo l'occasione per abbracciare tutti i tifosi. Ho passato due anni in una città stupenda con dei tifosi magnifici. Sono stati ricchi di grandi soddisfazioni e auguro di proseguire in futuro con altre tante belle gioie da poter condividere.